Come vestirai o come vestiremo? Possibilmente in modo sostenibile, etico e con onestà. Abbiamo le informazioni adesso per fare le scelte giuste come individui, come società e come industria della moda. Come individui dobbiamo incominciare veramente a pensare di abbandonare la fast fashion, di ritrovare la qualità, di comprare di meno e forse meglio. Questo vuol dire anche fare delle scelte sui materiali di cui conosciamo effettivamente l'impatto ambientale, meno poliestere, cotone dobbiamo considerarlo come bene di luso, spostiamoci verso materiali di nuova generazione come l'IoCell. E poi cerchiamo di considerare sempre l'impatto sociale che il nostro acquisto può avere sulla società sia nel nostro paese che altrove. E quindi teniamo in mente i diritti del lavoro e delle persone e la sicurezza soprattutto dei lavoratori. Questo come individuo, una scelta che possiamo fare per informarci, ma anche come industria della moda. Alle Nazioni Unite adesso diciamo che è tempo di build back better, di ricostruire in modo migliore. Questa è un'opportunità che la pandemia ha offerto per riflettere sui modelli di produzione e consumo che sono essenziali anche nel mondo della moda. La moda sta già facendo dei passi per adattarsi ad una nuova situazione. Approfittiamo di questa opportunità non soltanto nel settore della moda, ma in tantissimi altri settori, sia come individui, nelle nostre scelte di come ci spostiamo, dei trasporti che utilizziamo nel nostro stile di vita, ma anche come società per quanto riguarda un cambiamento delle città verso un modo posto sostenibile, un rapporto con la natura diverso e molto più rispettoso. Io vi sto parlando dalle Nazioni Unite seduta sulla scultura della Rebirth, del Terzo Paradiso, di Michelangelo Pistoletto, ed era questo il messaggio che è stato portato anche qui con questa scultura. È tempo di avvicinare il mondo naturale e quello creato dall'uomo per un equilibrio migliore. E questa forse è l'opportunità che abbiamo davanti a noi e non possiamo perdere.